Il rosso è stato fatto un pochino dopo la chiesa, mentre questo è proprio originale della chiesa, è l'oggetto più antico che abbiamo, questo battitermi. Infatti vediamo che manca anche la croce sopra, è un ciborio, il legno, mentre sopra qua abbiamo il dipinto del battitimo di Gesù con gli ultimi giordani.